Qua mi fermo perché arriva un altro ospite da informazionecattolica.it, quelli che io chiamo bacchettoni, ma che molto spesso la raccontano giusta. Pietro Licciardi, benvenuto! Grazie Semmini, un salutone a te e a tutti i radio resistenti di Radiolibbertà. Allora, comincio con Alessandro Monteduro, che è direttore di aiuto alla Chiesa che soffre per l'Italia, il quale segnala la tragica situazione dei circa mille cristiani palestinesi a Gaza, senza casa, senza cibo e medicine. Ma non meno brutta è la situazione dei 37.000 cristiani della Cis Giordania e dei 10.000 di Gerusalemme Est, che si trovano senza reddito per la cessazione del turismo religioso. Di loro ai ben noti ipocriti non importa un fico secco, quindi invito ad aiutare questi nostri fratelli, vittime di una guerra che non è la loro, andando sul sito di aiuto alla Chiesa che soffre per fare una donazione. Alessandro Franchi invece racconta di Giorgio Ponte, scrittore, professore e omosessuale, che si è pubblicamente esposto in favore della visione cristiana dell'essere umano. Sì, cari ascoltatori, perché i gay, se si ascoltano le loro storie, non sono affatto gay, ovvero felici, nella loro condizione, come testimoniano gli alti tassi di suicidio e problemi psichiatrici che li affliggono e solo Cristo può guarire le loro anime ferite. Ponte non solo lui è uno di quelli di cui veramente si può dire senza strumentalizzazioni chi sono io per giudicare, la sua infatti è una vita segnata dagli abusi e dal peccato e nonostante ciò cerca sinceramente di emendarsi, cercando di diventare una nuova persona in Cristo. Dunque lui, come tutti gli altri che vivono con verità la loro condizione, non merita di essere giudicato, ma sostenuto e accolto in questo suo cammino. Informazione cattolica con un mio articolo e uno di Diego Torre è solidale con la protesta degli agricoltori, i quali, contrariamente a quanto vogliono far credere giornali e tv di regime, non lottano per tutelare i loro interessi corporativi, ma per salvare l'agricoltura dai burattini degli oligarchi che siedono a Bruxelles, i quali, dietro la facciata di un fanatico ambientalismo, vogliono affossare l'agricoltura e spianare la strada al cosiddetto cibo del futuro, ovvero farine di vermi, cavallette e carne artificiale sintetica stampata in 3D. Speriamo vivamente il governo e soprattutto la Lega, che deve molto al voto degli agricoltori del Nord, tutelino contadini allevatori e con essi il buon cibo italiano e la nostra salute. Ricordiamoci che a giugno si vota per rinnovare il Parlamento europeo e questa volta chi si astiene, anziché preferire partiti che ancora tentano di salvare un po' della nostra sovranità, è da considerarsi complice di questa Europa sovietica. Un altro mio articolo segnala come il giornale Una volta cattolico avvenire, torni alla carica per chiedere la cittadinanza per il milione di minori immigrati in Italia, a parte il fatto che questi minori una cittadinanza ce l'hanno già, ed è quella dei loro genitori, perché tornare a chiedere con insistenza la cittadinanza breve per gli immigrati? Capiamo la sinistra che dopo aver tradito i lavoratori e i ceti deboli che le hanno voltato le spalle, cerca nuovi elettori, ma i cattolici e i sedicenti tali? Come al solito il buonismo senza ragione radisce a nebbia i cervelli e fa perdere di vista la realtà. Così ci si dimentica che regalare la cittadinanza è contro la dottrina sociale della Chiesa, ma soprattutto fa il gioco di chi mira l'ulteriore e definitiva dissoluzione della nostra patria e nazione, ritenuti evidentemente concetti superati in questi tempi di globalizzazione e multiculturalismo ideologico, in un'Europa sempre più liquida che investe ingenti risorse in progetti come Erasmus per creare generazioni di apolidi. I cattolici, anziché farsi strumentalizzare da chi intende far leva su un superficiale buonismo, farebbero bene a ripassarsi un po' di San Giovanni Paolo II, che ha ben spiegato il valore e il significato della patria e di appartenere ad una nazione, cose entrambe che non è concesso a nessuno svendere a buon mercato concedendo facili cittadinanze. Matteo Pio Impagnatiello recensisce il volume di Claudio Mutti, Europa ridestati, dove tra l'altro si legge che siccome oggi la nostra patria europea è indegnamente rappresentata da un'unione dominata da banchieri, burocrati, liberali, politicanti, traditori e collaborazionisti asserviti alla potenza egemone ed oltreatlantico, i buoni europei non devono rinunciare a sostenere la necessità di un'Europa degna di questo nome, una realtà unitaria e sovrana che in stretta alleanza con gli altri grandi spazi del continente euroasiatico concorra alla creazione di un potente blocco continentale. E ce n'è pure per l'Italia nel cui territorio, come ricordato dall'autore del volume, sono oggi presenti più di cento basi e postazioni militari appartenenti all'esercito statunitense o comunque a quel sistema controllato dagli USA, che è la Nato, Europeo, mentre i militari italiani sono mandati a reprimere la libertà di altri popoli per difendere gli interessi. Jacopo Coghe, portavoce di Provita e Famiglia, fa appello al Ministro della Salute perché si blocchi subito la somministrazione della trittorelina, il farmaco che blocca la pubertà nei minori. Il trattamento viene fatto su bambini indotti all'incertezza sul loro sesso. A parte i danni fisici e psicologici di questo farmaco, la faccenda tutta l'aria, dice Coghe, di una manipolazione ideologica per spingere al cambio di sesso che, per chi non lo sapesse, comporta gravissime mutilazioni nel corpo, tanto da spingere non poche persone al suicidio, una volta compresa la portata del gesto compiuto e averne sperimentato le conseguenze. Bruno Volpe ironizza sull'uscita di Filippo Anelli, presidente dell'Ordine dei Medici, il quale, in occasione della prossima giornata mondiale del malato dell'11 febbraio, ha detto che il medico deve operare sempre per il bene del paziente, senza discriminazione alcuna. Proprio lui, che con le sue interviste prese di posizione in occasione della pandemensa, come l'ha definita Volpe, ha criticato coloro che liberamente hanno scelto di non vaccinarsi, scelta che alla luce di quanto è emerso fino ad oggi e degli affetti avversi sviluppatisi, come peraltro la redazione di informazione cattolica ha dimostrato fin dall'inizio, si è rivelata giusta e ponderata. Chiudo con Simona Trecca, che scrive sulla cristianizzazione del carnevale, ovvero quel folleggiare prima del carnem levare, ovvero l'astinenza quaresimale. articolo che ha anche un interessante sguardo alle nostre tradizioni gastronomiche. Ebbè, diciamo che se qualcuno di queste argomentazioni ha riscosso la vostra attenzione, bisogna approfondire. Fatevi un giro sul sito informazionecattolica.it o scrivete su Facebook Informazione Cattolica. Io ringrazio naturalmente per la presenza Pietro Licciardi. Buon weekend e alla prossima Pietro. Io ringrazio te Sammy e tutti gli ascoltatori. Un salutone. Io ringrazio te Sammy e tutti gli ascoltatori.